per mesi di mariti di andare a ballare e per andare in ballera vanno a piedi perché la ballera è vicino a casa e nel rientro non c'erano un coltello perché avevano lo stimolo da quei cagarecci e dicevano che adesso fanno vanno in due, vanno in centro abitato e gli accontaranno ma passano vanno in cimiteri e vanno a dire cimiteri e vanno a dire cimiteri e dopo un po' vanno a dire che vanno via con cosecche e allora gli diceva a me c'è qui il miudante e no, a me no perchè il mio miudante è una roba da boutique in prima Valentino io pagavo il nostro alcol ma che guarda da che, guarda da la la metti in cura un po' di strigioni a tirare via i strigioni e salendo con qua lì quella mattina si trovi i due mariti e dicono te pensi che da la se sono combinati questa nostra la mia è di rifiuto il mio caso è salutante la mia invece i tuoi amici ti ricorderanno sempre ha 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 grazie grazie grazie